Allora, continuiamo la nostra trasmissione, come ogni lunedì, ogni 15 giorni di giovedì, abbiamo ospite Massimo Porto, il professore Massimo Porto, benvenuto Massimo, grazie di essere qui con noi, con la rubrica Il punto di vista, che in questa nuova programmazione appunto viene inserita all'interno del contenitore di Stasera Conno. Allora, Massimo, di cosa parliamo stasera? Mi hai accennato, vedo un libro, Ducezio, quindi parliamo di una storia che riguarda questo territorio, quindi Mineo, la Piana di Catania, il Laghetto di Palichè, il Calatino, quando dominava tutta la Sicilia, stiamo parlando del V secolo avanti Cristo. Esattamente. Ecco, molti, voglio dire, chi non studia ovviamente non può saperlo, ma Caltagirone, il Calatino nei secoli, nei millenni passati era il centro dell'universo e non è sbagliato dire universo, perché il mondo d'allora era così, era tutto quello che si affacciava attorno al Mediterraneo, diciamo, le conoscenze non erano morte e quindi era il centro del mondo, diciamo, eravamo al centro del mondo. Va bene, Massimo, prego. Sì, sì, no, non è azzardato e non è neppure retorico affermare ciò. L'altra volta abbiamo parlato appunto dell'importanza del ruolo della scuola e dell'importanza del ruolo della conoscenza della nostra storia, della storia locale che poi spesso diventa storia universale per creare quell'orgoglio identitario che dobbiamo ammettere spesso ai siciliani è mancato. Per cui, perché stasera voglio riparlare di Ducezio? Riparlare perché è capitato in un punto di vista scorso di averne accennato, di averne comunque divulgato qualcosa. Perché la Sicilia è terra di contraddizioni, il popolo siciliano spesso, lo dico amandolo perché sono fiero di essere siciliano è un popolo contraddittorio. Per cui spesso, giustamente, campanilisticamente, alcune volte esageratamente, ci beiamo della nostra identità, della nostra storia, della nostra bandiera, della nostra trinagria. Purtroppo spesso nel corso dei lunghi anni molti politici hanno strumentalizzato questo discorso per fini più o meno nobili, spesso meno nobili, però nello stesso tempo il siciliano e obiettivamente anche le istituzioni poco hanno fatto per far conoscere la vera storia della Sicilia, la vera identità siciliana al popolo. Per cui, perché ho pensato di parlare di Ducezio? Perché recentemente, con piacere devo dire, ho appreso che alcuni cittadini volenterosi di Caltagirone hanno deciso di istituire un comitato per restaurare la stele che a San Mauro ricorda l'ultima pagina del braccio armato militare del Levis e quindi... Fino alla seconda guerra. Esattamente. Allora quando le forze dello Stato, i carabinieri, sconfiggono, uccidendone alcuni, appunto i resti di quello che era l'esercito degli indipendentisti. E' una pagina che certamente oggi può essere letta e deve essere letta con maggiore serenità, con maggiore obiettività rispetto alle emozioni e alle difficoltà di lettura di quegli anni e degli anni successivi, ma è una pagina che come tante altre, se non affonda le radici nell'antica orgoglio identitario, può essere probabilmente riduttivo leggerla. Per cui noi non possiamo, al di là di quelle che sono le nostre idee indipendentiste, unitarie, separatiste, autonomiste, non possiamo non partire da Ducezio e quindi dalla grande storia che è stata scritta nel Calatino. Purtroppo, sottolineo purtroppo, questa grande storia, e non posso dare colpa ai nostri concittadini, non posso dare alcuna colpa neppure alle nuove generazioni, non è conosciuta. Sì, sappiamo che c'è una scuola intitolata Ducezio in quel di Mineo, Sì, se non erro, sappiamo che addirittura c'era una linea di autobus che si chiamava Ducezio, o che si chiama Ducezio, non voglio sbagliare, ma cos'altro è stato fatto per conoscere Ducezio? Recentemente, l'editore sa, l'amico Pino sa che qui non mi occupo di politica, però una breve parentesi, brevissima, la voglio aprire, sappiamo che è venuto a Caltagirone il leader della Lega Salvini, il quale probabilmente non sa neppure dell'esistenza di Ducezio, e al quale probabilmente qualcuno avrebbe dovuto spiegare, loro che si freggiano di altri... Perché qualcuno dovevano saperlo però, dovevano rinunciare con le scienze. Non lo so, avrebbero dovuto dire che qui nel V secolo a.C., in maniera nobile, con progetti importanti, già si parlava di indipendenza e di indipendenza non da chi che sia, ma addirittura dalla grande Grecia, dalla Magna a Grecia, per creare un regno di Sicilia, quando in altri Livi probabilmente non c'erano forse neppure le palafitte. Chiudo la parentesi. Occhiavissimo. Stiamo parlando del traducente, del settentrione d'Italia, diciamo, dove viene la Lega di Salvini o di Bossi, di memoria. Chiudo la parentesi. E però perché certa rabbia? Perché altrove, e mi riferisco anche all'Europa del Nord, all'Europa centrale, di piccole storie, di piccoli uomini fanno grandi leggende, grandi miti, e potrei anche citarne alcune. Noi che dovremmo essere fieri e orgogliosi di essere la patria di Ducezio, la patria del primo regno dei Siculi che addirittura si scontrò contro la superpotenza, gli Stati Uniti dell'epoca, cioè la grande Grecia, e riuscì a Ducezio, il suo esercito, il suo regno a contrastare questa potenza per tanto tempo prima di soccombere, non abbiamo fatto nulla per valorizzare questa storia. Non hanno fatto nulla neppure coloro i quali si sono in questi anni, in questi lunghi anni, così evito riferimenti temporali, di ricordare questa grande storia, di ridestare questa grande storia. Io quando passo dalla Valle dei Margi, e siamo costretti a farlo, allora quando ci richiamo a Catania, se percorriamo, come quasi tutti percorriamo, la Catania Gela, all'altezza finalmente di quel cartello turistico che indica Palichè, e che è stato messo dopo tante battaglie, perché in Sicilia, Pino tu lo sai, anche far mettere un cartello turistico è una battaglia, dove c'è anche del nostro, c'è qualcosa della società calatina di storia patria e cultura. Immagino che altrove ci sarebbe una grande statua dedicata a Ducezio, un grande museo dedicato al primo regno dei Siculi, un grande museo che racconta del mito dei fratelli Palici, dei laghetti dei fratelli Palici, che tutta la mitologia, non la mitologia nostrana o d'astrapaese, quindi esalta, ricorda, ridesta, attraverso gli studi che vengono proposti nei licei classici. Nulla di tutto questo, se non, per fortuna, qualcosa si fa comunque, nonostante tutto, una meritoriazione della dottoressa Laura Maniscalco, che ora dirige egregiamente il museo di Morgantina, allora quando presso la soprintendenza si è veramente intestata la battaglia degli scavi del santuario di Palichè, si è intestata la battaglia, e so io, e sappiamo alcuni a Caltagirone, con quanto coraggio e con quanta forza e con quanta determinazione, e con quante difficoltà per aprire presso la ex fattoria Interlandi, che insisteva in quella zona archeologica, un museo che è comunque visitabile e che oggi, da quando la Maniscalco non c'è più, obiettivamente conosce delle lacune, dei limiti, dei deficit che prima non c'erano. Le scuole timidamente hanno fatto qualcosa, ma molto timidamente, addirittura, se non erro, e forse lo stesso professor Mimmo Seminerio aveva lanciato un'idea, gliene diamo merito, che era quella di realizzare con gli alunni del liceo classico lì a Palichè delle rappresentazioni teatrali che ridestassero il mito e che dessero contezza di quello che un tempo fu il cuore del regno dei Siculi. Perché, ripeto, stiamo parlando del cuore del primo regno dei Siculi, cioè di questa grande idea di Sicilia che Ducezio, condottiero del V secolo a.C., originario appunto di Mineo, nel cuore del Calatino, ebbe sognando una grande nazione, una grande Sicilia per un grande popolo. sceglie la Piana dei Margi perché località legata al mito, al mito dei fratelli Palici, del lago dei fratelli Palici, Palici, pardon, e perché legato ad un santuario i cui resti, purtroppo poca cosa, sono stati ridestati grazie all'azione meritoria della Maniscalco, il cui santuario possiamo paragonare alla Santiago di Compostela dell'epoca. Da tutta la Sicilia, in pellegrinaggio, si veniva lì a Paliché per un moto che naturalmente con le religioni pagane, con la religione pagana, si doveva sciogliere. E quindi, come dire, quell'area è stata, nell'identità della nostra memoria, un concentrato di storia civile, storia religiosa, quindi storia politica, che ahimè poi è stata letteralmente sepolta dalla nostra memoria. Non è giusto. Non è giusto perché non ha dato, insieme a tante altre cose che sono mancate, alle tante nuove generazioni che si sono susseguite, quell'orgoglio civico e identitario che ci avrebbe fatto più popolo, indipendentemente dagli sviluppi politici che poi si sono susseguiti. E quindi poter dire al giovane svizzero che si vanta giustamente dalla storia di Guglielmo Tell, ma noi veniamo dalla terra di Ducezio, che nel V secolo a.C. sognava un grande regno e aveva costruito una monarchia politica importante, io credo che avrebbe dato, darebbe, darà al nostro popolo una identità ancora più fiera, perché stiamo parlando di grande storia, stiamo parlando appunto di importanti tradizioni. Per cui, se ci fosse una politica oggi più alta, più impegnata, più sensibile, più appassionata delle pubbliche amministrazioni, delle amministrazioni locali, io sognerei una caltagirone politica, un'amministrazione calatina, un'amministrazione di Mineo, un'amministrazione di Paragonia, almeno queste tre, che assieme concepiscono qualcosa per valorizzare quell'area. Certo, quella pagina di questa storia. In tanti modi, anche attraverso l'idea di alcuni docenti del liceo classico, che era quella di trasferire lì, magari nascendo in maniera quasi dilettantistica ed artigiana, alcune rappresentazioni che dessero il segno del mito, l'importanza del mito, della storia, della tradizione. Immagino tanti altri interventi, immagino tante altre iniziative, immagino la, purtroppo sono stati distrutti dalla cecità dell'uomo a ridosso tra gli anni 40 e 50, la rinascita dei laghetti, che spesso tanti intellettuali, anche stranieri, vengono a cercare. E non si vede. E mi consta personalmente. Vengono a cercare. Anzi, ora trovano un cartello turistico, un luogo dove poter andare, dei filmati da poter apprezzare, che sono appunto dentro questo museo, che, ripeto, meritoriamente alcuni della sovrintendenza anni fa hanno voluto realizzare. Grazie. Hanno voluto realizzare. è anche più nobile, più importante, comunque più antica. Quando noi eravamo il cuore del Mediterraneo, quando la Sicilia era il cuore del Mediterraneo, nel Calatino si respirava la grande politica. come sempre, ogni tanto qualche alito si sente. È così, Massimo, è una delle pagine, forse la meno conosciuta, se non per gli studiosi, gli addetti ai lavori, gli appassionati della storia di questa storia. però ai più è sconosciuto. Allora assumiamo un impegno nel chiudere questo punto di vista di realizzare una puntata sui laghetti di Palichè, visitando il museo. Possibilmente andando lì al museo vorrei dare. Mi hai capito. Allora, una delle prossime. Sì, sì, sì. Dinamicizziamo questo punto di vista dedicandolo proprio a Ducezio, nei luoghi. Farò in modo di far venire lo farà io volentieri la dottoressa Laura Maniscalco. Ma noi andiamo a fare dei filmati là e ci voglio essere. Va bene. L'avamo promesso già qualcosa. Qualche volta avevamo lanciato un'idea. Però non si è concretizzato. Però assumiamo l'impegno e lo facciamo. Ma quantomeno per dire che mettiamo anche questo tassello nella storia di questa nostra terra, di questo nostro territorio, di questo nostro comprensorio. Chissà che non ci faccia ancora di più capire praticamente l'importanza del grande passato che ha avvolto questa nostra realtà nella speranza di poter costruire e di ritrovarci a respirare appunto aliti del passato. Un po' difficile, però voglio dire possiamo anche sperarci. Grazie a Massimo Porta per questo punto di vista e ci sentiamo fra una quindicina di giorni. Ok? Grazie, buon lavoro. Grazie a te. Pausa pubblicitaria e adesso lascio il microfono a Enzo Nicoletti per uno speciale con la preside la dottoressa Sabina Mancuso con alcuni rappresentanti del corpo decente per parlare dei 150 anni del liceo Secusio di Caltagirone che proprio stamattina è stato celebrato nell'aula magna dello stesso istituto alla presenza di tantissime autorità e anche con testimonianze certamente toccanti per la storia recente per i protagonisti recenti che hanno continuato a tenere alto il nome di una delle scuole più prestigiose di Sicilia di uno dei licei più prestigiosi d'Italia vi lascio con Enzo Nicoletti buon proseguimento